Pratico questo sport da ormai quattro anni, inizialmente era una prova, come ogni genere di sport inizi. Progredendo mi sono reso conto sempre di più che non è solo pugni, calci e dolore fisico, ma è una vera e propria disciplina. Ho imparato a migliorare la mia tecnica, mi sono fatto male diverse volte, questo lo ammetto perché è palese, ma questo non mi ha mai battuto e soprattutto non mi ha mai dato modo di smettere di praticare quest'arte che a discapito di quello che molti dicono, che sia solo violenza e forza brutta, non è affatto così. Durante gli incontri, per esempio, alla fine ci si stringe la mano, ci si abbraccia tutti insieme, si è amici. Prima che essere sfidanti, si è amici. Questa è una cosa molto bella in questo campo perché ti fa capire veramente l'anima, lo spirito di questo sport, che in sé non differisce da tutti gli altri sport, come il calcio, il tennis, la pallavolo. Ed è una vera e propria passione.